Salve a tutti i giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video, video appunto bonus per fare un piccolo recapino degli effetti di queste carte perché l'altra volta ne avevo parlato dato che ci avevo fatto già diversi video ma vabbè può darsi che non tutti li hanno visti andiamo un attimino a fare un recap di queste carte in più qualche piccola novità per chi se la fosse persa 7 di 102 carte ovviamente che uscirà a giugno, ultra e super, 4 ultra, una secret, super no, secret scusate allora perché esce vicino e ridosso di quello OCG? Due motivi uno perché può darsi che non si basi su Animation Chronicle però è difficile dato che ogni Battle of Legends si basa su quello seconda supposizione che potrebbe essere più probabile, Animation Chronicle 2023 saranno tutte reprint perché fa parte anch'esso di uno speciale del 25esimo anniversario quindi verranno rimesse le carte più importanti quindi altre reprint tralasciando che forse potrebbero mettere anche le carte del premium pack da noi perché effettivamente noi abbiamo 40 carte in più e 40 carte in più, solo tante prima di iniziare come sempre ragazzi vi invito a iscrivervi al nostro canale per venire sempre aggiornati col mondo di Yuke non solo, grazie mille e partiamo con le carte Dark Magician The Night of Dragon Magic Mago Nero più un mostro livello 7, Drago Guerriero i nostri mostri che attaccano un flico danno perforante una volta per turno quando un mostro distrugge un mostro dell'avversario in battaglia possiamo infliggere danno all'avversario uguale all'attacco originale del mostro spaccato se questa carta viene distrutta possiamo specializzare un Dark Magician, un Gaia The Dragon Champion dalla mano deck extra deck e o cimitero quindi tanta tanta robina Armed Neos, Assault Synchron e Numbers Last Hope carte del Secret Utility Box un errore mentale più Armed Dragon Monster deve essere evocata prima tramite fusione se questa carta viene evocata specialmente possiamo scegliere un Drago nel cimitero e spacchiamo tutti i mostri dell'avversario con livello uguale o inferiore a quel target quando questa carta distrugge un mostro in battaglia possiamo farle guadagnare questo effetto durante la main phase, effetto rapido possiamo tributare questa carta per specializzare un mostro elementale fusione dall'extra deck ignorando le condizioni di evocazione quindi potrebbe essere uno specializzato molto interessante Assault Synchron durante la main phase possiamo specializzare questa carta dalla mano e se lo facciamo prendiamo 700 di danno se viene evocata in questo modo non possiamo specializzare mostri dell'extra deck mentre controlliamo questa carta eccetto draghi, eccetto mostri Synchro se un mostro Drago Synchro uno più mostri Drago Synchro controlliamo, vengono tributati o banditi possiamo bandire questa carta al cimitero per targettare uno di essi e lo specialiamo Numbers Last Hope viene sempre considerata una carta Galaxy paghiamo metà dei nostri LP per targettare due mostri nel cimitero per il resto di questo turno dopo che questa carta sia risolta possiamo evocare specialmente dall'extra deck una volta soltanto non contando questo effetto specialiamo entrambi i target e se lo facciamo evochiamo un mostro Xyz numero utilizzando quei due target quindi comunque una carta potrebbe essere molto interessante Odice, Rebellion, Exist Dragon Rocket Coder Exton Hydra 3 Edge Master e Daedraland The Hose Giant che fa tanto carta magic perché ci stanno un sacco odiose allora Pendulum Effect durante la Minecraft possiamo specializzare questa carta poi possiamo attaccare un mostro Dark dal cimitero a lei con effetto nota version 1 effetto mostro se evochiamo pendolo 7 possiamo evocare questa carta scoperta dall'extra deck non può essere utilizzata come materiale per un'evocazione Xyz nel turno in cui viene evocata tramite Xyz possiamo staccare un materiale questa carta per targettare due mostri della versione con attacco 3000 inferiore e spaccarli se questa carta è nella zona mostri viene spaccata la mettiamo nella zona pendolo Rocket Coder se viene utilizzata per un'evocazione Link per un mostro Borrel viene trattato come un drago può guadagnere se questo è fatto una volta per turno se un mostro Cyber se controlliamo sta per essere utilizzato come materiale Link per un'evocazione di Cold Talker possiamo anche utilizzare questa carta come materiale dalla mano se questa carta che controlliamo viene utilizzata come materiale Link per un mostro sempre Borrel possiamo anche utilizzare un mostro Dark dalla mano come materiale effettivamente lui può essere considerato un drago e ci consente di utilizzare anche i mostri della mano fondamentalmente lui è molto forte Exon Hydra due mostri che controlliamo che sono stati speciali all'ex attack i mostri dell'avversario che controlla che hanno lo stesso tipo fusione Sync, Exist, Panel Link dei di ogni materiale utilizzato per l'evocazione di questa carta perdono il loro attacco originale quindi praticamente ne vanno a zero se non sono pompati quando questa carta infligge mille o più danni da battaglia all'avversario peschiamo una carta per ogni mille di danno fatto effettivamente lei è molto interessante molto molto interessante triage master un tuner più uno più mostri non tuner se questa carta viene evocata sincro applichiamo uno dei seguenti effetti in base ai livelli dei materiali utilizzati per questa carta se abbiamo utilizzato tre o più materiali applichiamo tutti e tre gli effetti in sequenza uno e cinque spacchiamo l'altra carta sul terreno due e quattro peschiamo uno tre e tre se questa carta viene considerata anche come tuner che lei è interessante potrebbe essere una carta veramente stronza per fare roba poco poco felice didarant the house giant possiamo targettare un mostro exisa e controlliamo e attacchiamo questa carta come materiale come effetto pendolo effetto mostro possiamo se noi evochiamo pendolo 4 possiamo evocare questa carta scoperta dalla zona exa deck ogni effetto una volta per turno possiamo staccare il materiale da questa carta appiazziamo questa carta nella zona pendolo poi aggiungiamo un mostro pendolo dal cimitero nell'exa deck scoperto se questa carta nella zona mostri viene spaccata in battaglia dall'effetto della carta la mettiamo nella zona pendolo poi arm and nero che sarà carter sento neanche l'abbiamo visto e andiamo a vedere i nostri fantasmini ghost lancer ghost sleeper e ghost viner come la ghost fusion allora ghost lancer se solo l'avversario controlla un mostro possiamo specialarla dalla mano non può essere ristruta in battaglia eccetto dai mostri che sono evocati specialmente dall'exa deck e infligge tondo perforante ghost sleeper se questa carta viene mandata al cimitero aggiungiamo una ghost fusion dal deck alla mano se questa carta è nel cimitero eccetto nel turno in cui ci è stata mandata possiamo bandire questa carta e scartare una carta per targettare un mostro bandito di livello 4 o superiore e lo aggiungiamo alla mano e lui più o meno è il più forte perché quando viene evocato aggiungiamo la ghost fusion dal deck alla mano durante la infesa in cui questa carta è bandita ed è stata bandita in questo turno possiamo prendere un mostro di livello 2 inferiore zombie d'1 dal deck che possiamo o aggiungerla a mano oppure mandarla al cimitero quindi praticamente con anche zombie d'1 e il clown mi pare che era tuner può fare robe ghost fusion evochiamo un mostro fusione dal nostro extra deck utilizzando esclusivamente mostri zombie che controlliamo come materiali da fusione se i nostri life point sono inferiore all'avversario possiamo anche bandire fino a un mostro zombie dalla mano deck o cimitero come materiale può essere interessante perché alcuni mostri zombie o si specialano o fanno roba tipo il maseragull che se viene rimosso si speciala interessante puppet e promotion andiamo a vedere e poi abbiamo i performapall allora puppet pawn può attaccare direttamente l'avversario ogni effetto una volta per turno quando questa carta infligge danno da battaglia all'oppo possiamo aggiungere una promotion dal deck alla mano possiamo bandire questa carta dal cimitero per raggiungere un mostro terra guerriero dal deck alla mano eccetto lui poi l'avversario si ha da un mostro dal deck alla mano insomma non è non è un compromesso che mi piace puppet rook se viene evocata normal possiamo metterla in posizione di difesa se lo facciamo mandiamo un mostro terra guerriero terra guerriero dal deck al cimitero i mostri dell'avversario devono attaccare questa carta se possono una volta per turno se viene selezionato per un attacco possiamo targettare il mostro di livello 6 o superiore guerriero terra del cimitero mandiamo questa carta dal terreno al grave se lo facciamo evochiamo il mostro e gli cambiamo il target di attacco promotion targettiamo un mostro livello 3 inferiore terra guerriero che controlliamo lo mandiamo al cimitero se lo facciamo speciale a un mostro livello 4 superiore guerriero terra dal deck poi se controlliamo un mostro puppet con un tipo originale attributo tipo originale guerriero e attributo terra il mostro specialato guadagna 1600 per ogni carta nel cimitero dell'avversario se guadagnava 1000 e andiamo a vedere performa pal con i curibo mamma mia allora odd dice bottler una volta per turno effetto pendolo quando un mostro dell'avversario dichiarano l'attacco possiamo aggiungere uno dice pendolo dal cimitero all'ex all'ex scoperto e se lo facciamo dichiariamo l'attacco e guadagniamo lp uguale all'attacco del mostro pendolo effetto mostro se questa carta è nella mano al cimitero possiamo targettare un performa pal uno dice che controlliamo eccetto lui specialiamo questa carta e poi spacchiamo quel target con l'effetto una volta per turno se questa carta nella zona mostri viene spaccata la mettiamo scoperta nella zona pendolo valet una volta per turno quando il mostro l'avversario dichiarano attacco possiamo far perdere al mostro attaccante 300 per ogni mostro pendolo scoperto con l'ex radek effetto mostro se viene evocato possiamo mandare un performa con uno dice dal deck al cimitero eccetto lui se lo facciamo il livello di questa carta diventa lo stesso del mostro mandato fino alla fine del turno si viene spaccato zona pendolo baro curibo una volta per turno all'inizio della battle face possiamo aggiungere un mostro 300 200 dal deck alla mano e poi lo spacchiamo quando un mostro viene distrutto in battaglia possiamo specialare questa carta dalla mano i mostri dell'avversario non possono targettare i mostri per attacco eccetto lui se questa carta viene attaccata in posizione di attacco la mettiamo in difesa ah no se viene attaccata cambiamo la cambiamo in attacco all'end damage step performa pal classico ribo effetto pendolo quando un mostro dichiarano l'attacco diretto spacchiamo questa carta se questa carta viene distrutta dal suo stesso effetto pendolo diventa la fine della battle phase possiamo delitare effetto una volta per uno possiamo scartare questa carta per targettare una carta nella zona pendolo e la sua scala diventa uno fino alla fine di questo turno quando prendiamo danno da battaglia mentre questa carta è nel grever possiamo piazzarla nella zona pendolo e dovremmo concludere con lui ah no c'è anche red arrows e poi vabbè ci sono le ristampine ok effetto pendolo una volta per turno all'inizio del damage se un mostro combatte con un mostro possiamo far ritornare questa carta nella mano se lo facciamo bandiamo una magia dal deck per questa battaglia i nostri mostri non possono essere distrutti il danno viene dimezzato quando questa carta infligge danno danno da battaglia all'avversario possiamo aggiungere una carta supreme king dragon con un mostro super ranking gate e un solo of the super ranking tutti i mostri dal deck alla mano una volta per turno durante la stand by face attiviamo questo effetto ogni giocatore può mandare una magia dal deck una volta per turno con un mostro di gran attacco attiviamo questo effetto in base al giocatore attaccante aggiunge una delle carte magia rimosse dalla zona emozioni alla mano e poi scarta una carta e se lo fa l'attacco viene annullato per concludere abbiamo red arrows targettiamo fino a due mostri scoperti nella stessa nella zona mostri extra e li imbandiamo fino alla fine del turno se fosse stata rapida sarebbe stata follia col fatto che comunque ci sono dei supporti di skystriker chissà se metteranno quelli là del premium pack detto questo ragazzi questo era il recapino di battle of legend fatemi sapere come sempre voi cosa ne pensate noi come al solito ci vediamo nel prossimo video e un saluto a tutti